e buonasera a tutti amici della SPAL siamo qui per parlare del 3 a 0 che il Genova ci ha rifilato prima di tutto però io vi invito a iscrivervi al canale a mettere mi piace a questa pagina a commentare il video e a farlo girare tra i tifosi della SPAL ragazzi il vostro pollicione il vostro commento sono fondamentali perché sono un po' la moneta di questa piattaforma quindi con il pollicione e con il commento ci fate vedere ci fate girare e arriviamo a molti più tifosi della SPAL dicevo Genoa 3 SPAL 0 una partita che insomma era segnata il Genoa sta volando da quando c'è Gilardino verso una promozione che se non sarà diretta solo perché o comunque se non sarà a primo posto solo perché il Frosinone sta andando veramente oltre le aspettative di tutti il Genoa finalmente sta facendo quello che io mi aspettavo da inizio campionato è una delle squadre più forti della Serie B oggi insomma era veramente difficile andare a pensare di fare punti al Ferraris detto questo è una SPAL che cede completamente nel finale dopo il gol di Dragosin è saltato tutto il piano perché il pari sarebbe andato più che bene Oddo la prepara così praticamente mai pericoloso in attacco con una buona marcatura difensiva fino al gol appunto di Dragosin che avviene al 77esimo poi nessuna idea per provarla a ristabile il tiro più pericoloso verso la porta di Martinez credo lo faccia proprio Dragosin con un colpo di testa a retropassaggio la musica dopo Daniele De Rossi non è assolutamente cambiata dopo un brutto pari arriva una pesante sconfitta ripeto una sconfitta che nella marcia di questa SPAL verso la salvezza ci può stare però servì a fare punti servì a fare punti perché le altre non ti aspettano se qualcuna rallenta qualcun'altra subito accelera e oggi parliamo di una SPAL che è in Serie C e in Serie C Nengolan non sta dando probabilmente quella sterzata che ci si aspettava da lui Giuseppe Rossi ancora non l'abbiamo visto Vett Fazidis serviva un mercato importante dopo l'addio di Esposito per andare a pensare di salvarsi questo mercato onestamente non credo ci sia stato perché al di là del ninja venuto sostanzialmente per andare a dare una mano al suo ex compagno De Rossi il resto mi sembra faccia veramente tanta difficoltà la rosa della SPAL è questa l'abbiamo già detto tante volte è una squadra che farà fatica a salvarsi e speriamo tutti che ci riesca ma oggi ma già dalle scorse iniziavo ad essere un po' pessimista perché il cambio del mister non aveva dato nessun cambiamento non c'è un gioco, non c'è chi è in grado di farlo adesso con le due punte ci aspettavamo qualcosa di più in fase offensiva questa cosa non è avvenuta che dire non so voi come la vedete ma male male cioè non riesco a capire come cambiare come si possa cambiare quest'andazzo perché poi alla fine ok oggi la sconfitta ci sta però poi nelle partite precedenti avevi la possibilità di andare a prendere punti importanti invece le perdi le perdi o al massimo le pareggi quindi non lo so non lo so non so neanche cosa possa inventarsi Massimo Oddo onestamente che oggi perde anche Alfonso entra il nuovo portierino brasiliano che sembrava anche aver iniziato bene poi sul terzo gol fa insomma secondo me una papera clamorosa ma insomma partita finita amen vediamo Alfonso quanto se si sarà fatto male seriamente o meno perché anche quello era un punto tra virgolette a favore anche se nelle per le ultime prestazioni dei Rossi non era fatto benissimo la scorsa invece molto bene quindi anche perdere Alfonso in questo momento era difficile da mandare giù ripeto è una spalla che oggi io vedo in Serie C mi dispiace la crudezza di queste parole ma la squadra che fa zero tiri in porta ripeto contro il Genova ci sta non ha creato praticamente nulla in 96 minuti e passa c'è stato non c'è stato nessun movimento caratteriale con il nuovo cambio di allenatore ma insomma Oddo non mi sembrava il profilo giusto da questo punto di vista non lo so cioè ditemi voi nei vostri commenti come pensate di poter uscire da quello che ormai è una sabbia mobile che ti sta veramente portando ad annaspare portando a verso una serie C che poi lo sappiamo è molto 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 complicata da risalire perché poi passa solo la prima del girone ci sono squadre accreditate il progetto direi che quantomeno segna una battuta adesso oggi oggi fanno sorridere le parole di Dacopina che meno di un mese e mezzo fa parlava di promozione in serie A solite parole insomma parole che abbiamo già sentito a Venezia parole di grandezza che io ho già sentito personalmente a Roma che poi portano a fatti molto distanti ecco poco poco verosimili perché la qualità in campo non rispecchia le parole del dirigente non lo so bello bello come al solito almeno per me da romanista vedere in campo Ragnanengolan ma non può salvare questa squadra da solo bello vedere anche dall'altra parte Kevin Strotman che invece sta facendo sta facendo il suo campionato con i Genova non lo so ragazzi veramente deluso da da quella che pensavo potesse essere un'avventura simpatica di Danilo De Rossi sulla panchina della Spal questa avventura è stata chiusa nel peggiore dei modi ma mi sembra che chi che chi l'ha sostituito non stia prendendo in mano minimamente la situazione prima ancora peggio io onestamente questa squadra veramente non so come come possa rigirare rigirare la cosa perché ormai siamo al terzo allenatore terzo allenatore che non ha portato né un risveglio caratteriale né nuovi piani di gioco né giovani interessanti da lanciare c'è Prati sì per carità non lo so cioè non vedo veramente niente di positivo in queste due partite di Massimo Oddo parto probabilmente prevenuto perché insomma io avrei tenuto De Rossi quando palesemente non è colpa dell'allenatore i risultati a questo punto forse tanto valeva dare continuità a Danielino e provare a vedere se riusciva grazie a Nengolan grazie a Giuseppe Rossi grazie a Fed Pazzitis a dare una svolta alla stagione i giocatori sono questi purtroppo non c'è non c'è mai la giocata che cambia la gara manca questo in questo momento manca il giocatore in grado di crearlo quando poi a gennaio la società ti vende il tuo miglior giocatore parlando di un mercato sulle telle di allenatore e poi non fa assolutamente nulla di questo e anzi prende praticamente tre giocatori che se non erano a fine carriera insomma almeno Raja e Giuseppe Rossi sono in fase discendente della loro carriera Fed Pazzitis quello che è con la Mantia e Moncini è difficile anche vederlo in campo Raja Nengolan dietro le punte non lo so ragazzi ditemi voi cosa ne pensate io veramente faccio difficoltà a commentarla con positività sono abbastanza pessimista per il futuro spallino ciao a tutti e alla prossima